Buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione del corso di laurea in Economia e Finanza. Il mio nome è Gimede Gigante e sono assistente del direttore del corso di laurea CLEF, la professoressa Laura Zanetti, che vi manda il suo saluto. In questa breve presentazione vi presenterò quelle che sono i più importanti aspetti di funzionamento e di organizzazione del corso di laurea in Economia e Finanza e cercherò anche di trasferirvi da un punto di vista contenutistico qual è il focus di studio per quanto riguarda il CLEF. Partiamo dal focus di studio. L'obiettivo del CLEF è introdurvi e rendervi consapevoli dei meccanismi di funzionamento e di gestione del sistema finanziario. Che cos'è il sistema finanziario? Il sistema finanziario è qualcosa che imparerete sin dall'inizio del vostro percorso qui in Bocconia e il CLEF. Nel sistema finanziario avviene il trasferimento di risorse finanziarie tra diversi operatori. Operatori che da un lato hanno un eccesso di risorse finanziarie, penso per esempio alle famiglie, e operatori che dall'altro lato invece hanno un deficit di risorse finanziarie. Questo trasferimento di risorse finanziarie tra diverse tipologie di operatori determina l'importanza del sistema finanziario che ha un impatto sulla ricchezza delle nazioni, sul benessere delle famiglie e sul profitto delle imprese. Non a caso, quando inizierete a studiare il sistema finanziario e le sue componenti, troverete l'indicazione come la ricchezza di un paese, il benessere delle famiglie, il profitto delle imprese dipenda, sia strettamente correlato, al buon funzionamento, all'efficiente ed efficace funzionamento del sistema finanziario. Questo ci consente di introdurci a quelli che sono le componenti del sistema finanziario che poi voi andrete ad approfondire nel vostro percorso di studi. Però prima è importante comprendere come l'obiettivo di questo percorso di studi è farvi diventare esperti di finanza a diversi livelli, quindi ad un livello di finanza personale, e quindi aspetto familiare, eccesso di risorse finanziarie da investire per ottenere un rendimento positivo a livello di finanza aziendale, quindi lato imprese, che solitamente sono in deficit di risorse finanziarie e che quindi sono la ricerca all'interno del sistema finanziario di quelle risorse che sono necessarie per alimentare i loro processi di produzione e sviluppo, e anche la prospettiva della finanza pubblica che riguarda la ricerca e l'impiego di risorse finanziarie da parte della pubblica amministrazione. Solitamente anche le pubbliche amministrazioni giocano il ruolo all'interno del sistema finanziario di soggetti in deficit, cioè alla ricerca di risorse finanziarie appunto per i diversi impieghi della pubblica amministrazione. Mi piacerebbe alla fine di questa breve presentazione che fosse chiaro qual è l'obiettivo finale di un buon funzionamento del sistema finanziario, quindi l'efficiente e efficace di trasferimento di risorse finanziarie tra operatori e le componenti del sistema finanziario. In questa slide potete visualizzare molto bene i diversi pezzi del puzzle del sistema finanziario. Innanzitutto abbiamo i mercati finanziari. Cosa sono i mercati finanziari? I mercati finanziari altro non sono quelle piazze in cui fisicamente, un tempo, nell'antichità, e sempre più elettronicamente oggi, si incontrano diversi operatori per far cosa? Per scambiarsi le risorse finanziarie, per dar luogo alle cosiddette transazioni finanziarie. Quindi che cos'è un mercato finanziario? Il mercato finanziario è un luogo fisico e o virtuale dove si incontrano gli operatori e danno luogo al loro scambio di risorse finanziarie. Ci sono alcuni mercati finanziari, quindi bolse e valori, che hanno mantenuto la doppia anima, quindi virtuale e fisica di interazione tra i diversi operatori in surplus e in deficit. Per esempio la borsa di Wall Street funziona ancora oggi per il tramite dell'interazione fisica degli operatori, oltre che elettronicamente. Ci sono altri mercati finanziari, la borsa valori qui in Italia, che invece ha fatto una transizione completa verso la digitalizzazione, quindi verso un modello di interazione completamente elettronico. Studierete durante il percorso di Laurel & Clef i diversi mercati finanziari, le logiche di funzionamento, le diverse regole che guidano e normano i mercati finanziari. Come avviene, da un punto di vista contrattuale, la chiusura di queste transazioni, di queste operazioni di natura finanziaria? Per il tramite appunto di contratti che hanno natura finanziaria e che nel gergo prendono il nome di strumenti finanziari. Andiamo alla seconda componente del sistema finanziario, gli strumenti finanziari. Esistono diverse tipologie di strumenti finanziari, di cui studierete le diverse caratteristiche e di cui diventerete in qualche maniera esperti durante il percorso di studi in economia e finanza. Quindi studierete per esempio lo strumento finanziario obbligazione, che è uno strumento finanziario, un contratto finanziario che viene utilizzato dagli operatori per normare le regole di trasferimento di risorse finanziarie dai soggetti in surplus verso i soggetti in deficit. Sarete in grado di capire quali sono le caratteristiche tecniche dello strumento obbligazionario, avrete le nozioni e le competenze per studiarne alcuni aspetti, come per esempio il pricing dei diversi strumenti finanziari, avere la capacità di distinguere in maniera puntuale e completa le principali differenze di rendimento e anche di rischio che esistono tra uno strumento finanziario tipo obbligazione e un altro strumento finanziario tipo azioni. Studierete le diverse tipologie di strumenti finanziari e questi strumenti finanziari vengono negoziati in diversi mercati finanziari. Cioè lo strumento finanziario andrà a caratterizzare il mercato finanziario in cui è negoziato. Quindi avremo il mercato obbligazionario dove vengono negoziati gli strumenti obbligazionari, avremo il mercato azionario dove vengono negoziati gli strumenti di tipo azionario, il mercato dei derivati e così via. Questo meccanismo, diciamo, circuito di trasferimento di risorse finanziarie può avvenire con due diverse modalità. Attraverso un percorso diretto, quindi di interazione diretta tra gli operatori in surplus, per esempio le famiglie, gli operatori in deficit, per esempio le imprese, che si incontrano direttamente sul mercato finanziario e danno luogo per il tramite di uno strumento finanziario allo scambio delle loro risorse finanziarie, delle loro preferenze in termini di risorse finanziarie, direttamente sul mercato finanziario. Esiste anche un altro circuito di trasferimento di risorse finanziarie che è il cosiddetto circuito indiretto. Nel circuito indiretto il ruolo principale è svolto dai cosiddetti intermediari finanziari, che sono un altro elemento del nostro puzzle. Gli intermediari finanziari sono società che sono specializzate e che svolgono una serie di funzioni dove all'interno del sistema finanziario. Qual è l'obiettivo finale dell'intermediario finanziario? L'obiettivo dell'intermediario finanziario è agevolare, rendere ancora più efficiente ed efficace il meccanismo di trasferimento di risorse finanziarie. Quindi studierete come le principali funzioni dell'intermediario finanziario sono quelle di ridurre i costi di transazione, cioè i costi che un operatore dovrebbe sopportare per partecipare ad un mercato finanziario. L'intermediario finanziario con la sua esperienza attraverso le proprie economie di specializzazione è in grado di ridurre i fenomeni di asimetria informativa che esistono all'interno del sistema finanziario e inoltre studierete come gli intermediari finanziari sono importanti perché consentono una migliore gestione del rischio, quindi attuano un trasferimento del rischio all'interno del sistema da operatori che non sono in grado di sopportarlo verso operatori che invece sono in grado di gestirlo propriamente. Le economie più sviluppate sono quelle economie che funzionano per la stragrande maggioranza dei casi per il tramite del cosiddetto circuito indiretto, cioè la stragrande maggioranza delle risorse finanziarie in un'economia sviluppata come per esempio gli Stati Uniti avviene per il tramite del circuito indiretto perché il circuito indiretto grazie al sostegno e al supporto degli intermediari finanziari agevola quindi sia la partecipazione al mercato finanziario ma anche il processo di trasferimento di risorse finanziarie all'interno del sistema. Una volta che avrete capito e studiato diciamo quelle che sono le principali funzioni anche attraverso una prospettiva di tipo macroeconomico degli intermediari finanziari vi addentrerete nel percorso di studi CLEF anche nella comprensione di quelle che sono le logiche di gestione e di funzionamento degli intermediari finanziari e quindi farete un investimento in termini di quali sono i principali intermediari finanziari quindi studierete per esempio le banche commerciali, studierete le banche di investimento, studierete le compagnie di assicurazione, studierete le diverse società di intermediazione immobiliare, società di gestione del risparmio, fondi pensione e fondi previdenziali. Quindi nel percorso di studi al CLEF diventerete quindi esperti delle logiche di gestione oltre che di funzionamento di questo importante attore del sistema finanziario. Un ulteriore puzzle, un ulteriore pezzo del puzzle del sistema finanziario è rappresentato da quanto indicato nella slide con authority finanziaria, cioè autorità di controllo. Tutto il sistema finanziario, quindi questo meccanismo di trasferimento di risorse per il tramite o meno di intermediari finanziari avviene sempre sotto il rigido controllo di autorità che vengono denominate autorità di vigilanza. Questo vi chiarisce sin da subito come il sistema finanziario sia uno dei settori dell'economia maggiormente regolamentati. Non esistono altri settori dell'economia così regolamentati come il settore finanziario. Inoltre c'è proprio anche una correlazione tra regolamentazione del sistema finanziario, meglio il regolato sistema finanziario, più efficiente il meccanismo di trasferimento di risorse finanziare, e infatti tra i sistemi finanziari più sviluppati al mondo, quindi più efficienti ed efficaci al mondo, abbiamo proprio quei sistemi finanziari maggiormente regolamentati come negli Stati Uniti o anche in Europa e nella stessa Italia. Ci ho detto, nella slide poi c'è l'evidenza del fatto che il sistema finanziario svolge un'importante funzione finanziaria per le imprese. Vorrei un attimo soffermarmi su questo aspetto. Quando vi ho detto che ci sono dei soggetti in surplus, tipicamente le famiglie, che devono trovare delle opportunità di investimento, cioè investire il proprio risparmio con l'obiettivo di ottenerne un rendimento positivo alla fine dell'anno fiscale. Dall'altro lato vi ho detto anche che all'interno del sistema finanziario ci sono soggetti in deficit, cioè che non hanno abbastanza risorse finanziarie per alimentare i propri processi. Il fatto di essere in deficit di risorse finanziarie non è una connotazione necessariamente negativa, ma è nel DNA delle imprese che prima di poter vendere un prodotto, quindi conseguire un guadagno, dovranno anticipare dei costi, i cosiddetti per esempio costi di produzione. Quindi per anticipare dei costi è necessario che queste imprese abbiano la possibilità di avere accesso in maniera efficiente ed efficace all'interno del sistema finanziario a risorse finanziarie. Quanto è più facile e più efficiente questo processo di approvvigionamento di risorse finanziarie, tanto maggiore sarà la possibilità di imprese di ben performare, di creare ricchezza e indirettamente avere un impatto positivo anche sulla ricchezza della nazione e il benessere delle famiglie in cui quelle imprese operano. Non è un caso, quindi, che alcune delle più importanti e capitalizzate aziende al mondo, imprese al mondo, presentino delle caratteristiche comuni. Se provo a fare un elenco delle più importanti, le più capitalizzate, diciamo anche delle più ricche, questo stadio è sufficiente a dire delle più ricche imprese al mondo, mi vengono in mente imprese come Twitter, imprese come Microsoft, imprese come Apple, imprese come Tesla, imprese come Facebook. Tutte queste imprese, che sono tra le più ricche al mondo, maggiormente capitalizzate, hanno tra loro una caratteristica comune. La caratteristica comune più importante è che sono tutte imprese che sono quotate e presenti all'interno del sistema finanziario statunitense. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste imprese hanno potuto avere accesso, sono state in grado di avere accesso alle risorse finanziarie all'origine della loro storia in maniera efficiente ed efficace grazie al buon funzionamento del sistema finanziario statunitense. Quindi quanto più efficiente ed efficace il funzionamento del sistema finanziario, tanto maggiore è la probabilità che all'interno di quel sistema finanziario si sviluppano imprese che poi diventano imprese importanti per l'economia dell'intero paese e il benessere delle famiglie. Quindi l'obiettivo, il focus di un percorso di studio in economia e finanza sarà la finanza e come abbiamo potuto già intravedere la finanza a raccogliere un ambito che è ampio e trasversale, cioè quello che intendo dire è che farete un investimento per coloro che decidono di studiare il CLEF su quelli che sono gli aspetti più importanti della finanza e del sistema finanziario nel suo complesso che daranno la possibilità di avere delle nozioni, dei contenuti utilizzabili nel momento in cui si andrà a fare un percorso di carriera fuori dall'università nel mondo della finanza, ma sono anche contenuti e nozioni che saranno utili per coloro che decideranno di lavorare al di fuori estremamente quindi del mondo della finanza, perché la finanza è importante e gli aspetti base della finanza sono importanti per tutte le diverse tipologie di manager, anche se non sono manager direttamente collegati quindi alla funzione finanza. Quindi è un investimento che comunque torna utile per coloro i quali quindi avranno una carriera come manager o top manager di diverse tipologie di aziende, non necessariamente istituzioni finanziarie. È chiaro che una cosa che è importante sottolineare sin da subito, ma su cui tornerò anche dopo, la finanza ha per sua natura una caratteristica, cioè la sua internazionalità, quindi chi studia finanza ovviamente va a fare un investimento su contenuti, nozioni che sono spendibili non soltanto all'interno di una ristretta area geografica, ma va a fare un investimento su contenuti, su nozioni che sono spendibili in tutto il mondo. Quindi la finanza è internazionale e questo indirettamente significa che dovete anche essere pronti ad una carriera in ambito lavorativo, eventualmente anche a livello internazionale. È legata all'attualità, nel senso che se sfogliamo un giornale, se ascoltiamo il telegiornale, spesso e volentieri si fa riferimento alla finanza, alle diverse declinazioni della finanza e quindi molto spesso si parla di questioni che hanno un impatto immediato sull'attualità. Il fatto che i tassi di interesse siano saliti e che questo abbia un impatto sull'andamento dei mercati finanziari di tipo azionario è un qualcosa che più o meno indirettamente andrà ad influenzare la vita di tutti noi. L'obiettivo, quindi un percorso di laurea in economia e finanza è cercare di leggere queste varie dinamiche e comprendere come queste dinamiche hanno un impatto in termini di attualità. Cerchiamo adesso molto brevemente, ma in maniera puntuale, ovviamente cercherò di raccontarvi qual è la struttura del corso, è un percorso di studi triennale, quindi si sviluppa su tre anni. Nel primo anno abbiamo un investimento che è rivolto ad acquisire le basi, quindi avrete una base comune a tutti gli altri corsi di laurea in Bocconi, perché il nostro obiettivo è quello di darvi le nozioni base e fondamentali dell'economia e quindi seguirete dei corsi obbligatori. Poi sin da subito vi chiederemo quindi di superare un esame di informatica e sin da subito dovrete superare l'esame di lingua straniera, che è la lingua inglese, per coloro che non sono ma di lingua inglese, quindi sin da subito vi chiederemo di adeguarvi alla necessità di dotarvi quindi di una capacità di utilizzo del linguaggio inglese, che è la lingua della finanza, come ho detto la finanza è internazionale, è la lingua, il passaporto è di lingua inglese. Al secondo anno avrete invece la possibilità di entrare, quindi di approfondire gli aspetti della finanza, quindi si passa ad una logica di specializzazione che diciamo è una scelta di campo del CLEF, chi sceglie di studiare al CLEF sceglie sin da subito di specializzarsi in un ramo ben specifico dell'economia che è quello della finanza. La specializzazione posso dire che sicuramente paga in termini quindi poi di apprezzamento dal punto di vista dei recruiters. Il secondo anno si deve sostenere l'esame della seconda lingua straniera e poi ci sono le cosiddette soft skills. Cosa sono soft skills? Soft skills sono tutte quelle competenze di tipo soft, come per esempio la capacità di lavorare in gruppo, di ben performare lavorando in gruppo, la capacità di presentare dinanzi ad un pubblico, la capacità anche di leadership, sono tutte competenze su cui voi vi allenerete durante il percorso di studi in Bocconi. Solitamente si ritiene che queste competenze siano innate, in realtà la Bocconi da diversi anni ormai ha fatto questo investimento di presentare l'opportunità agli studenti durante il percorso di studi la possibilità di allenarsi a queste competenze che non sono necessariamente innate ma ci si può allenare e migliorare in questi ambiti più soft della propria preparazione. Infine c'è l'ultimo anno che vi dà la possibilità di espandere il vostro curriculum, quindi andrete a scegliere dei corsi opzionali all'interno delle aree di vostro interesse per approfondimenti che vorrete fare su uno specifico insegnamento piuttosto che su di un altro e poi c'è la possibilità di avere un'esperienza, di fare un'esperienza presso un'azienda, quindi avere un'opportunità di internship o di stage, anche questa è una cosa su cui la Bocconi in generale e il CLEF anche da diversi anni spinge molto gli studenti, cioè è importante che gli studenti sin da subito, sin da un percorso di formazione triennale, di laurea triennale, si confrontino con il mondo del lavoro e quindi l'esperienza di stage è un momento di crescita importante al pari dello studio, al pari del superamento degli esami. C'è anche la possibilità di partecipare a dei programmi di scambio, l'Università Bocconi ha delle ottime, eccellenti relazioni internazionali con le più importanti università al mondo, quindi ci saranno opportunità per coloro che vorranno di partecipare a dei programmi di scambio, quindi avere la possibilità di spendere un periodo di studi all'estero in prestigiose università e anche quello è un momento di crescita, è un'esperienza importante su cui l'Università ormai da diversi anni ha investito ed è un'opportunità che viene data ai propri studenti. Infine c'è il lavoro finale che è un momento di sintesi, cioè in cui voi preparerete un vostro elaborato facendo una scelta di un argomento che vi darà la possibilità di mettere a sistema tutto quanto avete imparato durante il percorso di studi e quindi attraverso l'aiuto di un docente Bocconi che vi supervisionerà voi avete quest'ultimo passaggio di preparazione di una tesina che verrà poi inviata ad una commissione che la valuterà e quindi questo è il momento finale della formazione. Adesso parliamo un attimo di quelli che sono i vari insegnamenti nel percorso di studi, senza necessità di entrare troppo nel dettaglio, però giusto per darvi un'idea di quanto vi stavo dicendo un attimo fa in termini di struttura del corso. Quindi il primo anno e mezzo è un periodo di base comune, quindi vi dobbiamo dare nozioni fondamentali dell'economia, dobbiamo essere sicuri che tutti i laureati Bocconi, indipendentemente dal corso di laurea che scelgono, abbiano queste nozioni di base dell'economia e quindi abbiamo insegnamenti al primo semestre che vanno dall'economia aziendale a gestione delle imprese, matematica generale, microeconomia, seminario di critical thinking, questo ultimo insegnamento va nella direzione della costruzione, dell'allenamento di competenze di tipo soft. Al secondo semestre abbiamo macroeconomia, matematica applicata, nozioni di base di diritto privato e computer science, quindi la scelta di inserire sì dal primo anno un insegnamento su computer science va nella logica dell'investimento fatto in tecnologia da parte della nostra università ormai da diversi anni, un laureato in economia, tanto più in finanza, in Bocconi, deve essere in grado di comprendere quindi i principali linguaggi delle macchine informatiche e quindi è un esame che vi darà la possibilità appunto di adeguarvi, di essere al passo quindi con quelle che sono i recenti sviluppi dell'informatica e della tecnologia in generale. Inglese, come abbiamo detto, quindi è il primo anno, sin da subito, vi doterete di una certificazione internazionale piuttosto che supererete un esame che in qualche maniera sarà certificato della vostra competenza nella lingua inglese. Secondo anno, primo semestre, siamo ancora nell'ambito della base comune in cui continuerete ad investire sulle nozioni di base partendo dalla storia dell'economia, incomincerete a gestire quindi quelli che sono i diversi elementi di un bilancio. Entrerete per la prima volta, il primo approccio con il mondo della finanza lo avrete con l'insegnamento di sistema finanziario in cui vi saranno presentate le caratteristiche base di tutti quegli elementi che vi ho presentato precedentemente quando vi ho detto del sistema finanziario e le sue componenti. Avrete l'esame di diritto pubblico e di statistica. A partire dal secondo semestre, il secondo anno, incomincerete quei corsi caratterizzanti che determinano il momento di specializzazione di uno studente che partecipa al CLEF, quindi studierete economia del mercato immobiliare, bilancio 2, metodi quantitativi per la finanza e come detto anche qui si faranno investimenti sui seminari per lo sviluppo di competenze manageriali e di leadership, sono quelle soft skills di cui vi parlavo prima, scienze delle finanze e la seconda lingua straniera. L'ultimo anno del percorso di studi presenta una novità, in realtà introdotta già da qualche anno per il percorso di laurea in economia e finanza in italiano, cioè la richiesta a voi studenti, a coloro che saranno studenti del CLEF, di sostenere tre esami e di seguire le lezioni di questi insegnamenti completamente in lingua inglese. Quindi abbiamo Monetary Economics, Financial Statement Analysis e Corporate Finance che verranno erogati completamente in lingua inglese e gli esami saranno in lingua inglese. Come ho detto, se arriverete al terzo anno e tutti coloro che vengono messi al CLEF arrivano al terzo anno, sarete chiamati a svolgere esami in lingua inglese per questi insegnamenti e a seguire le lezioni in lingua inglese. Tutti sarete in grado di seguire tranquillamente questi esami in lingua inglese perché comunque vi sarete dotati, come ho detto prima, delle competenze in lingua inglese già a partire dal primo anno. Poi avete la possibilità di scegliere un primo opzionale, al secondo semestre c'è diritto commerciale, ancora un altro insegnamento caratterizzante che è economia, gestione e istituzioni finanziarie, un secondo opzionale e infine la possibilità di scelta tra stage piuttosto che un terzo opzionale. E come dicevo prima, il percorso di studi si completa con il lavoro finale, quindi con questa tesina finale dove veramente avete l'opportunità di mettere al sistema tutto quanto avete imparato durante i tre anni di studi. Allora, lasciatemi dire qualcosa sulle modalità didattiche in Bocconi. ormai da diverso tempo, da tantissimi anni a Bocconi ha fatto investimenti in tecnologia e quindi qui in questa slide trovate scritto didattica multimediale. Didattica multimediale significa che ormai da tanti anni i nostri studenti non solo partecipano alle elezioni in classe, ma hanno la possibilità di interagire con il docente tramite piattaforme elettroniche dedicate che servono proprio per aiutare il processo di apprendimento. Quindi avete la possibilità di avere accesso a queste piattaforme, a una vostra agenda elettronica dove il docente di volta in volta potrà interagire con voi o mettervi a disposizione dei materiali aggiuntivi di studio, di approfondimento. Penso per esempio a delle slide o a dei readings di approfondimento. Questo sicuramente riduce le distanze e ha un impatto positivo sul processo di apprendimento. Poi la Bocconi da sempre è un'università che all'investimento teorico associa anche la necessità di avvicinare sin da subito, quanto prima possibile, i propri studenti al mondo del lavoro. Durante il vostro percorso di studi al CLEF e in generale in Bocconi vedete che i docenti faranno spesso il corso alla cosiddetta didattica modalità per casi, quindi vi presenteranno dei casi aziendali e le diverse modalità di gestione di un caso reale che consente quindi di applicare, allo studente consente di applicare quindi le proprie nozioni acquisite in ambito teorico. Quindi la discussione di un caso è un momento di crescita importante e di formazione perché lo studente spesso si trova di fronte a dei casi reali che sono stati gestiti da manager reali, da aziende reali e quindi è chiamato ad utilizzare tutta la propria competenza, tutta la nozionistica imparata sui libri per la risoluzione di questi casi aziendali e le testimonianze. Le testimonianze sono altro momento importante del processo di formazione qui in Bocconi, spesso e volentieri avrete i vostri docenti che inviteranno importanti figure professionali del mondo del lavoro che verranno in aula per trasmettervi il loro punto di vista sul mondo del lavoro e trasmettervi anche la loro competenza e molto spesso anche la loro passione. Questo è un momento importante di crescita e anche di opportunità di networking, quindi avrete la possibilità di entrare in contatto con primarie figure professionali da cui potrete imparare molto ma anche con cui potrete sin dai tempi in cui siete ancora studenti universitari e tipo trenale instaurare delle relazioni che poi potrebbero anche essere importanti e utili nel vostro percorso di carriera. Diciamo che in questo senso la ministra Bocconi da sempre, parlo anche a livello personale, è molto sexy in questo senso perché è facile riuscire ad avere l'ok di testimonianze da parte di primari manager, in alcuni casi perché sono stati anche a loro volta studenti e quindi allumni Bocconi, in altri casi perché anche per un manager affermato è molto importante, bello e prestigioso venire a rilasciare la propria testimonianza in una così qualificata università come l'Università Bocconi. Questo processo di apprendimento è importante al pari appunto della teoria di tutto quanto studierete in aula. E infine i seminari di cui vi ho parlato prima, quindi tutta una serie di attività che vengono organizzate dalla struttura Bocconi per sempre nell'ottica di formazione e completamento quindi della formazione dei propri studenti anche al di fuori dell'ambito strettamente nozionistico. Adesso cerco magari di anticipare alcune domande che solitamente vengono fatte durante queste presentazioni. Qual è lo sbocco lavorativo se io faccio il test di emissione e vengo ammesso al CLEF? Sicuramente, statisticamente, lo sbocco lavorativo può essere rappresentato dall'andare a lavorare in un'istituzione finanziaria, banche commerciali piuttosto che banche di investimento, società di intermediazione mobiliare. Potete andare a lavorare direttamente sui mercati, quindi borse e valori, come agenti di cambio, brokers e così via, potete diventare consulenti o analisti finanziari. Molto spesso la domanda che viene fatta a questo punto è ma se io non volessi andare a lavorare per un'istituzione finanziaria, ma a me piace il mondo dell'industria, è possibile con il CLEF andare a lavorare all'interno di un'azienda che non sia necessariamente un'azienda o un'istituzione finanziaria? La risposta è assolutamente sì, perché tutte le aziende, quindi anche quelle industriali, hanno la divisione finanza che è sicuramente una delle divisioni più importanti all'interno dell'azienda stessa, quindi uno sbocco lavorativo possibile è quello di andare a lavorare nella funzione finanza di una grande impresa industriale, non necessariamente quindi di un'istituzione finanziaria. Anche se a questo punto devo dirvi che sempre statisticamente la grande maggioranza degli studenti CLEF, dei laureati CLEF decide di proseguire un percorso di studi e di specializzazione, nella stragrande maggioranza continua un percorso di formazione qui in Bocconi, accedendo ad una laurea specialistica master biennale. Questo perché? Perché, diciamo questo, i studenti del CLEF, coloro che decidono di studiare e di venire a studiare CLEF superano una selezione abbastanza importante. Quando dico abbastanza importante intendo dire che il numero di posti disponibili è limitato al CLEF, sono soltanto due classi, le domande per accedere a queste due classi sono molte e chi entra è veramente chi è committed, chi vuole veramente far bene all'interno del percorso di studi. Quindi in genere posso dire abbastanza tranquillamente che i nostri studenti CLEF sono molto molto bravi, il fatto che siano tutti molto bravi determina dei meccanismi di sana competizione perché ci si aiuta a migliorare e a migliorarsi a vicenda e nella stragrande maggioranza dei casi il laureato CLEF decide di perfezionarsi, di proseguire in un percorso di studi magistrale viennale. Mi è capitato di studenti laureati CLEF che pur avendo un'opportunità di lavoro a tempo indeterminato, un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, hanno deciso di prima proseguire il percorso di studi, prendendosi una laurea per esempio magistrale in finance qui in Bocconi e poi entrare nel mondo del lavoro. È capitato anche il contrario perché ci sono anche degli studenti laureati CLEF che hanno ottenuto una buona offerta, un'ottima offerta di lavoro alla fine del triennio e che hanno deciso di entrare sin da subito nel mondo del lavoro. Ecco, questo in generale è quello che volevo trasferirvi nella presentazione del percorso di laurea in economia e finanza. Cerco di anticipare qualche domanda che solitamente viene fatta durante queste presentazioni e sono delle legittime curiosità da parte degli studenti. Finanza significa essere pronti a materie di natura quantitativa? Sì, sicuramente finanza richiede investimento e lo studio di materie quantitative. La seconda domanda che solitamente mi viene fatta è ma se io non ho una formazione quantitativa di matematica adeguata, ho dei problemi, cioè non riuscirò a stare al passo con lo studio, con le lezioni? Allora, se venite selezionati ed entrate al CLEF, l'unica cosa che vi verrà richiesta è di partecipare in maniera attiva, nel senso di frequentare le diverse lezioni, seguire il vostro docente, seguire i vostri teaching assistant e studiare sin dal giorno 1. Questo vi consente di colmare tutti i vostri potenziali gap in matematica. Questa domanda sulla matematica spesso e volentieri viene fatta da chi durante il liceo per diverse ragioni, non ha avuto l'opportunità di entrare troppo nel dettaglio della matematica o comunque si sente non troppo forte su aspetti della matematica, in realtà devo dire che non conosco un solo studente CLEF che non si sia laureato perché non ha passato l'esame di matematica. L'importante è che voi vi impegnate e poi la struttura Bocconi, quindi con il corpo docente e tutto ciò che ruota intorno al corpo docente, vi aiuterà a colmare i gap e a diventare bravi tanto quanto quelli che già partivano da una base di partenza importante. Quindi questa preoccupazione del non essere in grado perché non ho le basi è una preoccupazione che io non mi farei. Certo è che però se la matematica proprio non vi piace, se gli aspetti quantitativi non vi piacciono per nulla, non vi aggradano per nulla, forse e probabilmente questo non è il vostro percorso di studi.